Sai cosa si dice dei gemelli? Che sentono la stessa sofferenza l'uno dell'altro. Sì. Io... ho sentito tutto il tuo dolore mentre eri in carcere. Grazie. Questo... mi ha fatto pensare che forse io e te non siamo solo amici. Siamo due metà della stessa mela. Quella avvelenata? No. Quella di Platone. Mi e te siamo di anime gemelle. E... lo so che adesso c'è Maria nella tua vita e... lo rispetto. L'ho conosciuta, è una bella persona. Sì. Però nessuno potrà mai conoscerti come ti conosco io. Gioia. Lo so. Lo so. Lo so. Lo so. Ho passato tutta la vita a difendere la nostra amicizia. non l'ho fatto solo perché avevo cura di amarti Fabrizio. чи ci sai cosa cosa che riesco adesso? E? Non l'ho fatto solo! Grazie per aver inscr Accountculo. Questa risulta dal 94 achatata da COVID-19. Grazie a tutti